Torna a Bari per far ricredere gli scettici Michael Foloruncio che dopo un'annata non del tutto positiva nel 2019-2020 arriva di nuovo nel capoluogo pugliese con l'intento di essere protagonista. Una trattativa abbastanza lunga, quella con il Napoli che ha riportato il giocatore ex Lazio alla corte di Michele Mignani, un giocatore nuovo così come si è descritto alle telecamere. Questo è un campionato che è abbastanza particolare, però io mi sento naturalmente protagonista perché voglio essere importante per la squadra e voglio essere innanzitutto disponibile alla squadra. Mi voglio sempre far trovare pronto ogni volta che vengo chiamato in causa e in questi due anni anche l'ho dimostrato perché ho saltato veramente poche partite e quelle poche che ho saltato sono state sempre per motivi disqualifiche perché magari anche quando c'è quel dolore provo sempre ad andarci sopra perché voglio dare una mano concreta alla squadra perché alla fine è sempre il gruppo che vince e se tutti quanti siamo disponibili verso il compagno faremo grandi cose. Io penso che è cambiato soprattutto il fatto che penso di essere maturato tanto ma anche dopo l'esperienza di Bari, anche l'esperienza di Bari è stata negativa calcisticamente ma umanamente sono molto maturato da quell'esperienza e a Reggio sono continuato a maturare sia a livello calcistico che umano e poi dopo una volta che comunque sia prendi fiducia in te stesso non è così importante il ruolo in cui giochi ma secondo me quando vai in campo e vuoi dare sempre il massimo ogni partita tutto viene più facile. Grazie a tutti.